Di lei, di se stessa, diceva sono un verme di terra. Oggi vi raccontiamo la storia di Natuzza Evolo, di Fortunata Evolo, una donna che è insegnato al mondo ad amare, una donna che si è affidata completamente all'amore di Dio e a quello della Madonna. E a questa Madonna ha costruito una città della fede, è una città della carità. Guardiamo insieme, state con noi, perché è una figura tutta da scoprire. Grazie a tutti. La state vedendo anche nel nostro schermo gigante, l'avete vista in foto, Natuzza Evolo. E' una donna che ha insegnato l'amore di Dio per tutti gli uomini. Era una donna analfabeta, una donna che diceva di sé che contava poco, contava niente. Eppure questo niente ha generato tantissimi figli spirituali, ha generato una famiglia bellissima, nonostante le tante difficoltà. E' una donna che è sempre rimasta piccola, che non si è mai arricchita, che ha subito anche delle persecuzioni per questo amore di Dio fortissimo che portava dentro di sé. Noi oggi, per fugare qualsiasi dubbio, impariamo a conoscere da chi ha vissuto con lei. Pasquale è il nipote di Natuzza Evolo. Pasquale Nicolace, grazie di essere con noi, grazie di questa camminata che si è fatta verso il nostro studio. Pasquale, chi era, e lo voglio sentire proprio se possibile con l'amore di un nipote, chi era nonna Natuzza? Una nonna dolcissima, partiamo da questo, perché poi aver vissuto di dentro questo mistero ce l'ha fatto vivere come un qualcosa di naturale. Lei dice subito mistero, che mistero era? Sì, perché questo si è capito con il tempo. Quando ero bambino per me era normale che mia nonna potesse parlare con il mio angelo custode o che potesse vedere i defunti. Poi crescendo ho capito e ho compreso che il dono più grande che mi era stato fatto nell'avere questa nonna era sapere che Dio esiste, quindi la certezza di avere Dio vicino. Come era una giornata con nonna Natuzza? Una giornata con nonna era particolare nel fatto che non poteva essere presente con noi familiari, perché tanta gente aveva bisogno di una parola di conforto e quindi parecchie centinaia di persone ogni giorno bussavano alla porta di nonna. Quindi sin da quando ero piccolo, anche andandola a trovare, perché vivevo magari in Sicilia o poi a Roma, era più semplice parlare con lei da Roma via telefono che lì a casa, perché dedicava il suo tempo all'ascolto degli altri e a dare un conforto. Pasquale, ma per lei il cuore di bambino era normale tutto questo? Cioè quella era la sua nonna, lei la doveva condividere con delle persone che poi erano dei casi umani, diciamocelo chiaro. Erano casi disperati che chiedevano attraverso questa donna l'aiuto di Dio in un certo senso. Quando ero molto piccolo c'era la gelosia, perché tutti la chiamavano nonna e la chiamavano mamma e io non capivo, diciamo, ma no, è mia nonna, come vi permettete, non è vostra. Poi crescendo comprendi che era una nonna per il mondo, per tanti giovani che si rivolgevano a lei come fossero dei nipoti, chiedendole un consiglio e sapendo che il suo consiglio non era umano ma veniva da Gesù. Quando ha capito che era speciale nonna Natuzza? L'ho compreso intorno ai 10 anni, 12 anni, quando comunque vedendo, ecco come lei ha detto, quelle realtà di persone molto sofferenti che venivano da lei e magari entravano rabbuiate e poi uscivano con un sussulto nel cuore che dava speranza di continuare. Allora capivo che per tanta gente nonna era una speranza nel continuare una vita. Pasquale c'è stato qualche momento in cui sua nonna a un certo punto ha dovuto spiegarle qualcosa, diciamo una cosa, nonna era analfabeta, nonna non sapeva neanche, metteva la crocetta. La sua firma era uno sgorbio, eppure attraverso questo angelo che ha condiviso, che ha vissuto con lei in un certo senso, lei parlava il linguaggio di chi si rivolgeva a lei. Se parlava con delle persone rudite, si esprimeva in italiano benissimo, pur non sapendo a volte le parole. Se invece parlava con il popolino, con la gente che doveva capirsi assolutamente, parlava con le stesse parole. Sì. Quando è che, se c'è stata mai una volta, che nonna ha dovuto spiegarle qualcosa e che cosa le ha spiegato? No, non c'è stata mai l'esigenza di spiegare qualcosa, perché è venuto tutto da sé, cioè crescendo ho compreso. Quello che all'inizio per me era una cosa naturale, ecco, che mia nonna riuscisse a parlare con un tedesco che arrivava lì da lei per chiedere una parola, un aiuto, per me era normale, perché poi ho capito che l'angelo, diciamo, le suggeriva quello che doveva dire. Io, devo dire la verità, mi accosto a questa puntata con grande rispetto e anche con grande attenzione, perché non si debba pensare che stiamo farneticando, che non si debba pensare che stiamo facendo un ritratto sbagliato di una donna dalla spiritualità profondissima. Ecco perché sono anche molto serrata nelle domande, ma perché voglio, proprio voglio, utilizzo per la prima volta la prima persona singolare, voglio che siano sgombrate da qualsiasi cellule nuvole, questa è la cosa fondamentale. E per cui chi più di voi che ha vissuto quella dimensione speciale di mamma, di nonna, Natuzza, può darci queste risposte. Lei non ha mai dubitato che nonna fosse matta? No, mai dubitato. Intanto nonna era una donna di preghiera. Cioè, chi andava da lei a rivolgersi a lei, si rivolgeva perché, ecco, aveva un problema magari anche di salute, e voleva un conforto, magari essere assistita in quel dolore. E non era possibile che, come ha detto lei, una persona analfabeta riuscisse magari a parlare di un problema fisico in termini scientifici. Quindi a me non è mai sorto il dubbio che nonna potesse farneticare, perché prima che magari la persona le rivolgesse una domanda, era lei stessa a dire, guarda figlia mia, magari hai questo problema, il medico che ti sta curando è bravo, ha individuato il problema, affidati a Gesù e alla Madonna, io prego per te. E in quel momento lei si caricava la sofferenza della persona che stava lì, la persona andava via più tranquilla, più serena nell'affrontare la problematica. Più leggera. Più leggera in un certo senso, sapendo che Gesù e la Madonna erano a conoscenza del problema e le stavano vicino. Nonna si è vista, ha passato anche dei momenti difficili, sicuramente precedenti alla sua nascita, perché nonna fu anche internata, perché si pensava che le visioni, si pensava che quelle presenze che aveva dentro di sé fossero una sua invenzione. Ha mai avuto sentimenti, atteggiamenti di odio, una parola bruttissima, che poi non si sposerebbe neanche con questa dimensione, ma comunque di risentimento nei confronti di queste persone che l'avevano condannata, che non la capivano? No, mai, ma anche il fatto di aver avuto una famiglia, nonna essendo una persona così di preghiera, magari avrebbe vissuto la sua vita diversamente, ma furono i medici a dire, guardate, a consigliare alla famiglia, quando si sposerà tutto finirà. Listeria passa. Listeria passa. Quindi lei è sempre stata molto rispettosa e ha seguito quello che dicevano i medici, che diceva anche la Chiesa, padre Gemelli che mandò quella missiva. Benissimo, però i fenomeni sono andati avanti, perché non erano fenomeni isterici, erano fenomeni dell'atto. I momenti più difficili sono quelli che ha vissuto durante la Quaresima. La passione di Cristo non la viveva sulla propria carne, dentro la propria carne. Sì, le sofferenze erano durante tutto l'anno, ma i 40 giorni alla Quaresima erano proprio il culmine. Sono stati momenti molto forti anche per noi della famiglia. Quando eravamo molto piccoli non assistevamo al Venerdì Santo noi bambini, però poi crescendo intorno ai 15-16 anni, anch'io restavo nell'anticamera durante il Venerdì Santo, che era proprio il culmine della passione, in cui viveva tutto il calvario di Gesù. Sono stati momenti veramente dolorosi. Lei cosa pensava in quel momento? In quel momento si pregava solamente, ascoltando questo colloquio, perché si intuiva che c'era questo colloquio con Gesù e con la Madonna dalle risposte. Logicamente non si sentiva la domanda di Gesù o la risposta di Gesù, ma si intuiva che c'era questo colloquio, si pregava solamente che non riuscisse. Le carni di nonna sanguinavano, poi ha avuto anche le stimmate. Ed è una, si chiamano, sono dei fenomeni particolari, perché quando provavate ad asciugare questo sangue, sul fazzoletto, sul telo, chiamatelo come volete, rimanevano impresse delle cose, delle scritte, delle immagini, altro fenomeno stranissimo accertato che appunto non è certo figlio di isteria. Lei ci ha portato un dono stamattina. Sì, è un fazzoletto che appartiene alla mia famiglia ormai da oltre 40 anni. Come vede è proprio in una velina. Sì. E ho quasi paura a toccarlo. Possiamo mostrarlo a favore? Penso, ecco qua, benissimo, fa tutto lei e quindi... Non so, così... Lo facciamo vedere, posso toccarlo? Sì, magari... Io sono un attimo titubante un po'. Prego, prego. Allora, lo facciamo vedere, allora penso, ecco qua, così si vede, credo benissimo. Vogliamo provare, va bene, parli lei, perché in questo momento non credo che sia sufficiente forse che lei... Ecco, il fazzoletto non era neanche dispiegato, bastava magari detergere i segni della corona di spina a nonna col fazzoletto e poi all'interno si formavano queste emografie. Voi avete letto, cioè, l'immagine della Madonna, quella dal cuore grande, è bello, perché lei così la voleva, è chiarissima. Ecco, la stiamo vedendo in questo momento, grazie alla regia per questo lavoro bellissimo che state facendo in questo momento. E poi questa è la presenza di Gesù Cristo, della Madonna, nelle carni, in un certo senso, di Natuzza Evolo. Questo lo conservi, lo ripunga, lo vede, perché questo è qualcosa, credo, di preziosissimo. Veda, noi credo abbiamo bisogno di segni. Io sono in imbarazzo, glielo posso dire, sono in imbarazzo, perché da una parte vorrei che proprio si capisse chi è stata, chi è e chi sarà, Natuzza Evolo. Dall'altro mi immedesimo anche nel vostro essere famiglia. Cosa significa per un bambinetto vedere che tua nonna sanguina, vederla e sentirla parlare con idiomi diversi, avere questa casa sempre piena di gente fino a quando si è consumata dalla fatica, caricarsi addosso tutte le croci della gente. Lei qualche domanda se l'è fatta, lei ha detto, mamma, nonna mi ha insegnato ad essere certo dell'esistenza di Dio. Dell'esistenza di Dio, sì. Io una volta da bambino le chiesi proprio, nonna, ma perché offrire le sofferenze? Non è più semplice offrire i sorrisi? Certo. E mi ha detto, sì, sta lì la questione, offrire un sorriso è troppo semplice. Se invece tutti noi imparassimo ad offrire le sofferenze a Gesù per la riparazione dei peccati, il mondo sarebbe migliore. Ecco, mi ha insegnato questo, magari noi giovani, lei amava tanto i giovani, perché i giovani, lei lo diceva sempre, sono il futuro del mondo. Mi ha sempre detto, tu sentiti Gesù vicino e la Madonna vicino, non avere mai quella paura di essere da solo. Io ho compreso, perché nella realtà della scuola, comunque, stando vicino ai ragazzi, che c'è quello, c'è la paura di stare da soli. Alle volte ci si rifugia nell'alcol o nella droga perché si pensa di essere soli in un momento di sofferenza. Lei mi diceva, no, in quel momento, pensate a Gesù, pensate alla Madonna, lui è lì a fianco a voi che aspetta solo che lo chiamate. Cioè, ha dato il grande dono del libero arbitrio. Questo è un dono a doppio taglio, perché fin quando noi non cerchiamo Gesù e non cerchiamo la Madonna, loro non possono intervenire. Ma quando noi apriamo il cuore a loro, la nostra vita cambia. Ed è cambiata la vita di un intero paese, o meglio, è partito il cambiamento da Paravati, questo piccolo comune in provincia di Vibo Valencia, dove ci aspetta la nostra Francesca Cugliandro, che ha una grandissima responsabilità. Francesca, questa puntata, come al solito, la facciamo in due. Quindi mi affido a te, perché noi veniamo a te con il figlio di Natuzza Evolo, con Francesco, Francesco Evolo. E proprio a te sarà affidato un compito particolare, che è quello poi di farci addentrare nella spiritualità, di mamma o nonna Natuzza, come vogliamo chiamarla. Buongiorno Francesca, buongiorno. Buongiorno Lucia. Siamo nel punto più caro qui a Paravati, dove c'è la tomba di Natuzza, dove appunto si trova il suo corpo e siamo qui con Francesco Nicolace, il figlio, il figlio più piccolo dei cinque di Natuzza. Noi poi vi faremo vedere un po' fuori, usciremo a farvi vedere questa piccola fetta di Paravati, dove si sta costruendo tanto, opere murari, strutture, ma soprattutto questa grande spiritualità, questo grande messaggio che ha lasciato Natuzza. Tu prima ne parlavi con Pasquale lì, quanto è stato difficile per loro, difficile e facile però nello stesso tempo per loro, per la famiglia di Natuzza, vivere questa dimensione così allargata. Francesco, la mamma sempre, cosa vi ha detto, come vi ha raffigurato un po' la vostra famiglia? Loro sono cinque figli, però lei vi diceva non siete solo cinque. Sì, sì, fin da bambini ci ha spiegato che noi, che la nostra famiglia non era composta semplicemente da papà, mamma e dai cinque fratelli, ma noi avremmo avuto tanti fratelli, avevamo tanti fratelli nel mondo perché lei si doveva occupare di tutti e quindi noi dovevamo condividere il suo amore con gli altri, quindi dovevamo cercare di non essere egoisti e quindi questo ce l'ha spiegato fin da subito, insomma, da ragazzi. Lucia, io cercavo di immaginarmela la vita di Francesco e dei suoi fratelli, questa mamma così buona, semplice, umile, accogliente, che doveva condividere l'oro con migliaia e migliaia di persone che sempre bussavano alla loro porta e io chiedevo a Francesco, come avete vissuto questa vostra fanciullezza, adolescenza, con tante persone in casa? E lui quasi mi ha sorpreso dicendomi, sembrava che non ci fosse nessuno, no? Sì, sì, perché lei ha saputo un pochino conciliare questo suo impegno che aveva con le persone, con poi la vita familiare. Lei si alzava presto la mattina, si alzava alle tre, alle quattro, incominciava a preparare, poi ci veniva a svegliare verso le sei e mezzo quando dovevamo prendere il pullman per andare a scuola, ci portava il caffè. C'era una mamma che non ci ha fatto mancare niente, affettuosa. Sempre il piatto sulla tavola? Sì, 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 sicuramente. Quando noi eravamo, siamo in cinque, quindi eravamo cinque ragazzi che andavamo, frequentavamo classi diverse, logicamente, quindi, però ognuno di noi quando rientrava a casa poi in realtà trovava lei, innanzitutto, che apriva la porta e che ci accoglieva e poi il piatto pronto in tavola, la tavola apparecchiata, quindi niente di... cioè non ci ha fatto mancare niente da questo punto di vista e poi anche si informava su quello che noi avevamo fatto a scuola, stava lì con noi, insomma, il tempo necessario e poi tornava con le persone. Però questa gente che entrava in casa, voi la vedevate? Tu da piccolino, forse, appunto, il figlio più piccolo, sempre in braccio alla mamma. Sì, sì, sì. Che discorsi si ascoltavano a casa? Diciamo, io fin da bambino, ecco, io mi riferisco in particolare al periodo prescolare o subito dopo, quando ancora, diciamo, i miei fratelli erano fuori, quindi io rimanevo spesso con lei e lei alcune volte mi teneva in braccio oppure io giocavo nella stanza dove le riceveva perché poi la casa era piccola, quindi ecco, in questa stanza da letto lei riceveva queste persone. Quindi io sentivo lei che conversava con tutta questa gente e poi la vedevo che rispondeva in maniera così spontanea alle domande poste. Dicei, l'angelo ha detto che oppure il tuo papà defunto ti manda a dire questo, ancora pregate alla Madonna e Gesù dicono che bisogna pregare. Quindi per me questo era, insomma, a me piaceva ascoltarla, anche se tante cose non le capivo a quell'età e per me era piacevole, insomma, ascoltarla, sentire. Ed era così naturale che sembrava quasi che tutte le mamme fossero così. Sì, 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 per me, a quell'età pensavo che tutte le mamme parlassero con gli angeli, parlassero con i defunti, insomma, per me era una cosa naturale. Però la parte più difficile per un figlio poi era accettare queste grandissime sofferenze che Natuzza ha vissuto nella sua vita, il periodo soprattutto pasquale, insomma, la quaresima. Vederla che stava male? Sì, sì, anche lì lei, inizialmente noi non capivamo quale fossero, quale fosse l'entità di questa sofferenza e quale fosse il tipo di sofferenza. Lei sempre ci ha nascosto fino ad una certa età, cioè ci parlava quando lei stava male, specie in alcuni periodi dell'anno, e noi chiedevamo a mamma che hai, come stai, e dicevi, sapete, ho una colica renale oppure c'ho un forte mal di testa e basta, cioè le cose finiva tutto lì. E il grande amore di mamma la portava a coprirsi, questi maglioni lunghi che coprivano? Sì, sì, poi lei aveva delle ferite che noi non vedevamo perché spesso portava dei maglioni lunghi oppure delle camicie lunghe che coprivano i polsi, e quindi io ricordo anche mio fratello, quello più grande, che ce lo raccontò tempo fa, che lui si era accorto una volta di queste ferite, però lei ha banalizzato, nel senso che le stava, siccome gli era caduto un bottone alla camicia, quindi lei aveva cercato di, dice, mamma me lo riattacchi il bottone, quindi come lei ha preso ago e filo per rialzato il braccio e scesa la manica. Lui ha visto quindi questa ferita al polsi, ha chiesto, e lei diceva, non ti preoccupare, semplicemente la candeggina che mi ha fatto allergia, quindi ha banalizzato anche lì. Lucia, poi Francesco è il più piccolo, abbiamo detto, dei figli, a 16-17 anni attraverso il padre spirituale di Natuzza scopre questo grande dono della sua mamma, ed è lo stesso Francesco poi che le sta vicino nei momenti più brutti, insomma di sofferenza durante appunto la quaresima e il venerdì santo, e va bene, quindi poi appunto queste emografie di cui parlavate, che lui quasi si vede accanto, sul cuscino. Sì, sì, il venerdì santo spesso, ecco, noi vedevamo, cioè sul cuscino... Cosa appariva? ...apparivano delle scritte oppure delle emografie, cioè dei disegni tipo una corona di spine, delle croci, e poi queste scritte che erano indecifrabili, perché scritte in diverse lingue, anche in lingue archiche. Eccole qui, eccole qui, alcune delle emografie di Natuzza, appunto il fazzoletto che asciugava e poi si riempiva così di questi segni, però noi adesso vi mostriamo una celebrazione, una bella celebrazione che si è svolta qui a Paravati domenica scorsa, quando si sono celebrati 20 anni dall'arrivo qui della statua della Madonna, una rifugio delle anime che tanto ha voluto Natuzza, proprio come lei immaginava, come lei vedeva questa Madonna, giovane, bella, accogliente. Vi facciamo ascoltare alcune delle persone che abbiamo sentito appunto domenica. Chi era mamma Natuzza, indubbiamente è una donna del popolo, una donna molto semplice, una donna che ha incontrato Gesù, si è fatto incontrare e amare da Gesù, e Gesù l'ha coinvolta fino in mondo al punto da parteciparle e da chiedere la sua stessa sofferenza sulla croce per la salvezza degli uomini, per la conversione dei peccatori. È una donna tutto cuore, una vera mamma, ma non per nulla è rimasta come mamma Natuzza, e accoglieva tutti, indipendentemente se erano dei curiosi, se era gente che aveva problemi, però a tutti dava un messaggio di umanità, di serenità, di pace. Grazie al Cenacolo che ci troviamo qui adesso, infatti nel Cenacolo abbiamo conosciuto molto di più mamma Natuzza e la Madonna, e ogni volta quindi che veniamo qua proviamo sempre delle emozioni, ritorniamo a casa con un cuore pieno e anche pieno di fede. Noi con tutte le difficoltà quotidiane comunque cerchiamo di essere fedeli al Cenacolo, alla preghiera, attraverso anche delle iniziative come ad esempio il Cenacolo che ogni martedì si riunisce per pregare il Rosario e anche portando in giro per il mondo il messaggio che la Madonna e mamma Natuzza ci hanno insegnato. Noi all'interno del Cenacolo viviamo proprio l'esperienza della famiglia perché siamo io, mio marito e nostra figlia di tre anni. Viviamo il martedì ma anche le giornate dei giovani che si tengono qui a Paravati una volta al mese, un'esperienza di fraternità, di comunione, di formazione, perché nello statuto si parla dei Cenacoli come fermento nel cuore della Chiesa e il cammino che si fa qui e che si fa anche a Crotone, nel Cenacolo di Crotone, è un cammino anche di formazione per essere davvero lievito all'interno della Chiesa locale di Ocesana ma nel mondo perché il messaggio della Madonna, di Gesù a mamma Natuzza ormai ha raggiunto un po' il mondo intero. Allora ci sono, come dicevamo, qua delle emografie di Natuzza, ce ne sono decine e decine che sono andate perse e Don Pasquale Barone è il parroco di Paravati e mi diceva una cosa bella, cosa sono, come le possiamo sintetizzare queste emografie? Allora le emografie sono la particolarità di mamma Natuzza e sono messaggi essenziali nel segno del sangue e della sofferenza Delle catechesi mi diceva Messaggi essenziali per un'efficace catechesi al popolo di Dio Addirittura il cuore? E' un cuore che si dissangua sormontato dalla croce e dentro il cuore c'è un volto umano e sotto c'è E' Dio quindi il messaggio è chiarissimo E qua ci sono qui i tre pastori e la Madonna vero addirittura si formano? Si, c'è la bocca di un tunnel che immette in un percorso di luce e al vertice di questo percorso c'è il cuore immacolato di Maria come a Fatema posta su un leccio Lucia, ci vediamo allora più tardi vi facciamo vedere fuori cosa è sorto qui a Paravati, vicino la casa di Natuzza Grazie Francesca e non vediamo l'ora di uscire da questa stanza, da questo museo ma che in realtà è Vangelo vivo perché tutto è vita tutto quello che ha vissuto questa donna e che sta trasmettendo attraverso i cenacoli l'avete visto, attraverso l'eredità che ha lasciato abbiamo accennato alla presenza dell'angelo l'angelo è stato il suo compagno di vita attraverso l'angelo Natuzza ha potuto esprimere anche le richieste della Madonna non ultima quella della città della gioia sentiamo il rapporto speciale proprio di Natuzza Evolo con il suo angelo c'è tanta gente che è venuta qui per la prima volta lei non l'aveva mai vista, mai conosciuta e a cui lei ha dato una diagnosi esatta del male che questa gente ha avuto sì ma non io, sono mio, è l'angelo che mi suggerisce io dico quello che mi dici, veramente lei non ha studiato molto, ha studiato per niente lei non ha studiato per niente? no ma io non sono meno numeri, niente ci sono stati dei momenti in cui lei riusciva a leggere le lingue straniere, il latino, il greco no no no, sa come, così per esempio venne una della Germania io non so parlare allora quella mi pone un problema parla lo so, non capisco niente parla nella sua lingua nella sua lingua l'angelo mi dice e io mi arriva la lingua per ripetere quello che dice l'angelo e ci do la risposta la spiegazione di Natuzza non lascia spazio se volete a dei dubbi ma noi proprio perché dobbiamo fare bene il nostro mestiere siamo andati a chiedere a questo signore che è vicino a me che voi tutti riconoscerete Luigi Maria Lombardi Satriani, uno dei miei miti prof, io ho letto i suoi libri, ho studiato sui sui libri sappia, è responsabile anche del mestiere che faccio in parte antropologo, uno dei papà dell'antropologia italiana perché? perché la scienza a un certo punto con ma Natuzza ha dovuto fare i conti professore noi andiamo un attimo in pausa ma le domando faccio un sì o no a questa domanda lei ha dovuto a un certo punto andare incontro a Natuzza per una esperienza di studio che poi racconteremo non era un blef vero questa donna? non era un blef perché questa donna era straordinaria nella sua ordinarietà era una figura al centro di una serie di fenomeni di cui si è parlato però questi fenomeni erano vissuti in una dimensione di assoluta semplicità su questo ci torniamo professore perché sfido chiunque a casa adesso a mollare questo canale dopo queste parole di Luigi Maria Lombardi Satriani lo ritroviamo tra un minuto e poi stiamo qui grazie io ritorno dalle parole di Luigi Maria Lombardi Satriani che dice Natuzza Evolo era una persona speciale ma che ha vissuto la quotidianità nella sua piccolezza, nella sua umiltà professore quando incontra Natuzza lei la prima volta? io l'incontro quando ero bambino quindi tanto tempo fa perché io sono di un piccolo paese San Costantino di Briatico che è molto vicino a Natuzza, al paese di Natuzza Paravati e le persone del mio paese andavano da Natuzza, erano fedeli di Natuzza quindi di Natuzza io ho sentito parlare a casa mia come di una figura straordinaria ma che era in qualche maniera familiare ritornava nei discorsi, nei racconti solo a distanza di tempo poi da antropologo ne ho fatto oggetto di studio andando e incontrandola e parlando di lei in un convegno internazionale a distanza di anni ancora dovendo fare, volendo fare un documentario antropologico con Marie Caboggio pensammo di chiedere il permesso a Natuzza e di riprenderla perché chiedere il permesso? perché noi siamo contrari a forme di rapina giornalistica bellissima in qualche maniera con i mezzi attuali si possono strappare le immagini si possono fare interviste ai fedeli tentare scuppo variamente motivati voi volevate capire invece noi volevamo capire e volevamo la sua collaborazione il suo permesso, il suo coinvolgimento e siamo andati a parlare con lei lei non aveva accettato di fare interviste televisive si era sempre rifiutato è stato successivamente che poi ha incominciato senta professore mi racconti il primo incontro con Natuzza io sono andato, ho parlato con lei una prima volta quando ripeto volevo parlarne in un congresso internazionale ma poi un rapporto un po' più prolungato si è avuto quando siamo andati a casa sua a Paravati e le abbiamo chiesto di cos'iamo perché eravamo sia Marie Caboggio e io con cui poi abbiamo scritto anche un libro bellissimo abbiamo prima fatto un film per la Rai e poi contemporaneamente questo assieme al dibattiti che è seguiti a quella proiezione di questo film è stato oggetto di un libro bellissimo Natuzza Evola che dopo tra l'altro prenderemo anche in grafica professore chi si trova davanti? noi apriamo la porta con lei in questo momento una donna semplice, sorridente con un po' di differenza noi siamo degli estranei e tutto sommato incominciamo a parlare lei ci fa accomodare noi le diciamo che parlare di lei e dei prodigi che attorno a lei si sviluppano e anche una maniera di continuare la sua missione di far giungere il suo messaggio a una platea molto più ampia lei non dice né sì né no dice ne debbo parlare con mio marito anche questa l'ordinarietà di questa donna sì ma anche questo affidare al marito questo Pasquale Nicolace suo nonno questa figura di pater familias di colui che decide anche per la moglie secondo un modello che è molto calabrese che è difficile giudicare dall'esterno come una sottomissione inferiorità della donna è un riconoscimento di ruoli diversi e allora Pasquale Nicolace dice come vuoi tu io direi che è una cosa buona e lei accetta che da questo punto in poi Maria Craboggio e io incominciamo a parlare con le persone per individuare le diverse peculiarità il diverso tipo di intervento professore io devo stuzzicare lei e devo arrivare al suo cuore quindi non mi parli adesso da antropologo ma mi parli da Luigi Maria Lombardi Satriani riassumiamo adesso perché si fosse messo in ascolto bambino che sente parlare fin da piccolo di questa signora dei prodigi che attraverso la Madonna ovviamente stava compiendo in un certo senso perché ricordiamoci questa è la differenza tra i mistificatori e chi invece ha la fede la fede queste persone diventano strumenti in mano di Dio non viceversa non sono i prodigiani lei che chi si trova davanti la sua prima impressione una donna semplice e buona una donna sorridente non ha mai dubitato di lei no perché io incontro varie volte personaggi al centro di fenomeni strani ma in lei colpisce l'assenza di avidità di guadagno lei non prende una lira né per sé né per la sua famiglia e contemporaneamente l'assenza di narcisismo di questo atteggiarsi che molte volte i protagonisti di questi fenomeni hanno lei invece è schiva è modesta le offerte che le vengono fatte le destina prima alla costruzione di una cappella poi via via di un tempio tutto questo mi colpisce e mi dà l'idea di una bontà sorridente e anche di una lezione di vita quindi non da antropologo ma poi da essere umano che lezione ha avuto? io dico che ho avuto da lei una lezione grandissima di umanità e della necessità di essere sempre disponibile al colloquio al colloquio non come tecnica di intervista ma come parlare agli altri e farsi parlare degli altri quindi l'importanza della parola come mezzo di comunicazione e di incontro questo io l'ho imparato da Natuzza al di là di qualsiasi atteggiamento fideistico perché io credo che si può legittimamente riconoscere il lei i segni del divino si può invece sospendere questo giudizio fideistico e ritenere che è al centro di fenomeni che allo stato attuale delle conoscenze non possono essere spiegate ma quello che è in dubbio è che questa donna così carica di umanità e anche di tensione spirituale riusciva a incontrare gli altri di diversa formazione intellettuale io sono laico se ancora può valere questa distinzione un po' troppo rigida tra confessionale o laico comunque io appartengo a una cultura laica non una cultura che dinanzi a ogni cosa si arrende le mani e dice Dio lo vuole perché questo atteggiamento molte volte ha portato nella storia a dommatismi e a espulsioni a crociate senta professore quando lei si è trovato a raccontare di Natuzza in una sessione internazionale quando ha parlato a scettici in un certo senso si è trovato a doverla difendere con argomentazione laica è molto interessante questo punto di vista e noi per questo le abbiamo chiesto di venire qua lei qualche volta si è trovato o anche a essere zittito perché qualcuno diceva guarda stai attento perché non è così sì non tanta a difenderla però a mettere in guardia da atteggiamenti facilistici di giudizio io dicevo prima bisogna guardarsi dai giudizi dogmatici fideistici bisogna guardarsi anche da dogmacismi razionalistici parole povere parole povere è che non si può dire che Natuzza è senz'altro un messaggero di Dio non si può neanche dire con certezza che è una mistificatrice anzi le prove che abbiamo è che non è una mistificatrice e allora ce la dobbiamo spiegare questo fenomeno in qualche maniera allora bisogna rapportarla alla cultura di cui è espressione prima che però professore è una cultura anche universale le dice giustamente le radici sono in Calabria bisogna capire anche quel tipo di devozione ma attenzione se non ne faremo un fenomeno soltanto calabrese o spiegabile solo alla luce di quelle radici no non è fenomeno solo calabrese perché venendo incontro alle esigenze del rapporto con il mondo dei morti con i propri cari entrando in contatto con l'esigenza del dolore queste sono esigenze universali di superare il dolore eccetera però l'esigenza universale si coniuga a motivi particolari ognuno parla la propria lingua anche Nacuzza parla la propria lingua a volte con inflessioni dialettali in questo senso il riferimento alla cultura calabresa è importante per capire e le immagini le fotografie del passato che mostrano quello che era Paravati una volta ci fanno capire un contesto un contesto che è di emarginazione ma anche un contesto in cui una cultura elabora il linguaggio del sangue lei ha delle stimmate con un processo di identificazione con le sofferenze di Cristo ma è anche vero che le stimmate segnano col sangue la straordinarietà di questa figura e questo è da rapportare a quella cultura del sangue che è della tradizione anche calabrese non solo calabrese non esclusivamente chiarissimo come vedete anche la scienza a un certo punto e non soltanto l'amore di un figlio di un nipote si interroga su questa figura che abbiamo detto poi dopo ha lasciato un'eredità un'eredità che oggi si è tradotta anche in pietre pietre vive la costruzione di una chiesa bellissima per questa madonna dal cuore grande che dovesse essere un rifugio per le anime sofferenti e noi proprio in questa chiesa stiamo per andare vero Francesca? Sì Lucia allora guarda noi prima parlavamo di paravati ce l'abbiamo alle spalle Natuzza abitava lì in fondo al paese vero Francesco? Sì nella zona nord del paese quindi sulla statale 18 però poi negli ultimi anni della sua vita si è trasferita qui alla fondazione vicino alla sua chiesa che stava appunto iniziando a venire su quello che impressiona di questa di questa una delle tante cose che impressionano di questa di questa vita è che Natuzza tutto quello che vi faremo vedere a cominciare da queste strutture murali lei le ha cominciate a vedere a 14 anni quando appunto la madonna le apparve cosa disse? le aveva perché lei era preoccupata di aver visto di aver ricevuto la madonna nella sua umile casa che non era ancora quella di via nazionale ma era una casetta proprio misera e preoccupateci come faccio a ricevervi in questa casa così brutta e allora la madonna le disse non ti preoccupare di questo noi andiamo anche nelle case umili perché c'erano Gesù la madonna e San Giovanni che cosa disse la madonna ci sarà ci sarà una nuova e grande chiesa e le disse anche che si chiamerà cuore immacolato di Maria rifugio delle anime già le aveva detto anche il titolo diceva lei mi ha detto il titolo di come sarà intitolata la chiesa quindi quale sarebbe stato poi il nome di questo santuario e Natussa li vide queste strutture? si si li vide li vide perché la madonna pare l'abbia presa per mano e accompagnata lungo i vari lungo le strade i viali che ci sono qui in questa villa della gioia ecco la villa della gioia è lo stesso percorso che forse vide già Natussa da allora ragazzina vedete c'è questo viale grande che poi sarà diciamo attraversato da un porticato che porterà alla chiesa ed eccola qui dal 2006 quando appunto iniziò la costruzione la chiesa che accoglierà almeno 3000 3000 fedeli vero padre Pasquale? è proprio così è un grande complesso ecclesiale composto da un'agola centrale e da tre cappelle la cappella del Santissimo la cappella di Mamma Natussa e la cappella delle confessioni eccola qui qua già la vediamo in pianta vedete come come se fosse proprio il corpo di Maria questo grande abbraccio giù c'è questo viale con il portico e poi si arriva si accede alla chiesa e c'è questa madonna questo corpo con le braccia aperte le braccia sono le due cappelle e qui al centro il cuore la testa e ci sarà proprio la tomba di Natussa che vi abbiamo fatto vedere prima sarà spostata qui a che punto sono i lavori Don Pasquale? i lavori sono abbastanza avanti e contiamo di portare a termine entro il prossimo anno 2014 naturalmente abbiamo bisogno del sostegno di vecchi e nuovi benefattori per arrivare al complimento ai cinque anni del decesso di Mamma Natussa con un risultato che faccia piacere a lei e sia gradito anche alla Madonna Don Pasquale ci racconti qual era il cruccio grande di Natussa? Chi aveva bisogno secondo lei di quest'opera grande che lei voleva venisse costruita qui? Allora Mamma Natussa soffriva quando vedeva la gente esposta all'acqua al vento al freddo nell'inverno e al pericolo di insolazione durante l'estate quindi aveva bisogno ecco di una grande chiesa come segno di accoglienza e come segno anche come casa di preghiera e di riconciliazione con Dio e con i fratelli e poi i giovani gli anziani nelle strutture laterali qui che stanno sono in costruzione servizi alla persona gli anziani i giovani le persone malate e lì dove ci sono quei due alberi di olivo che vedete in quel terreno è ancora insomma dove ancora non è iniziata alcuna costruzione lì è un'altra parte importante per i malati terminali vero Don Pasquale lei voleva appunto la Madonna anche le aveva chiesto che chi vive l'ultima parte della sua vita nelle sofferenze abbia un'accoglienza abbia un sostegno Mamma Natussa ci ha impegnato anche alla realizzazione di un centro per malati terminali e 19 casette per dei ospitali per la malata e per la persona di famiglia che lo deve seguire nel suo percorso di recupero ecco le persone appunto malati i loro familiari quindi i giovani e i tantissimi tantissimi pellegrini quanto gente continua ad arrivare sempre anche lì siamo andati via adesso dalla tomba di Natuzza e già erano arrivate persone che volevano venire a visitarla arrivano ogni anno a centinaia di migliaia come cercatore di Dio sulle orme di Mamma Natussa come maestra di vita spirituale diciamo che sul frontespizio della sua tomba c'è quell'ultimo messaggio che è un po' la sintesi della sua vita e del suo testamento spirituale per un programma di vita cristiana destinato a tutti e non cercate me alzate lo sguardo verso Gesù e la Madonna io sono con voi e prego e qui il domenica scorsa c'erano veramente migliaia di persone quando si è celebrato il ventesimo anniversario dall'arrivo dalla costruzione di questa statua della Madonna rifugio delle anime che proprio Natuzza ha voluto e in questa spianata abbiamo raccolto delle voci insieme a quella del Vescovo della diocesi di Mileto Monsignor Luigi Renzo e ve li facciamo ascoltare ve li facciamo ascoltare allora tra un po' allora vi continuiamo a raccontare invece questa questa grande opera che si sta che si sta costruendo allora dicevamo ci sono ci sono proprio c'è il cantiere il cantiere aperto al momento a che punto siamo insomma della costruzione e stiamo provvedendo alle rifiniture e a tutti gli impianti che sono necessari e che poi ecco porteranno a termine di tutto il complesso dei lavori e quindi alla inaugurazione e consegrazione insomma che speriamo che da qui a un anno insomma possa realizzarsi senta l'ultimo ricordo che a lei proprio umano bello di Natuzza e che ci vuole insomma trasmettere e mamma Natuzza raccomandava l'umiltà la carità e l'ubidienza alla chiesa e in questo lei è veramente un modello come anche modello in quanto straordinaria donna di famiglia per fiamma di fede ricchezza di opere una grande mistica del nostro tempo una grande una vera aristocratica dello spirito che come dicevamo richiama qui a Paravati veramente centinaia di migliaia di persone ogni anno e una una di queste di queste occasioni ve la facciamo ve la facciamo vedere adesso nell'RVM che vi mostriamo siamo sempre alla ricerca di qualcosa soprattutto noi giovani e quindi abbiamo bisogno di trovarci e di identificarci in qualcosa e fare parte del Cenacolo è stato importante per me come per tanti altri giovani ci siamo confrontati e ci siamo ritrovati quindi questo poi ci ha spinto a seguire tutto il percorso e a ritrovarci qui da mamma Natuzza un punto forte di Natuzza lei era appassionata dai giovani e mi ricordo una delle prime volte che io l'ho incontrata quando sono venuto qui come vescovo e la cosa che mi ha raccomandato è che cura molto i sacerdoti e i giovani i giovani soprattutto perché sono abbandonati e sono senza guida per me è stato un messaggio che mi ha e di cui mi sono lasciato anche coinvolgere perché operare investire sui giovani credo che significa recuperare lo spirito la vivacità e il senso vero e il senso vero del Vangelo così posso portare proprio la mia gioia e anche chi mi vede vedere il mio sorriso i miei occhi dire ecco sono qui oggi venite anche voi perché è un'esperienza bellissima la raccomando a tutti luci allora io vi avevo presentato francesco come come l'ultimo dei figli l'ultimo dei dei cinque figli invece non è così perché natussa cosa diceva non è così perché lei parlava poi di una sesta figlia la sesta figlia era la fondazione cuor immacolato di maria che era la figlia diciamo più piccola in ordine così cronologico però era la più grande la più amata perché era voluta proprio dalla Madonna quindi la più importante diciamo allora qui da dove c'è il segno forte di questa sesta figlia più amata che poi è la figlia che condivideva veramente con tutto il mondo natussa e qui da Paravanti quindi vi salutiamo Lucia buona buona continuazione grazie grazie ma per il lavoro bellissimo che avete fatto puntuale perché siete stati i nostri occhi su questa su questa anche sesta figlia bellissima definizione di una fondazione che abbiamo detto è solo uno strumento per completare per continuare se volete quello che Dio e la Madonna hanno raccontato a questa donna una donna che un'altra nostra amica Maria Grazia che è la moglie di Michele Sciancarepore lo diciamo subito ma per noi se Maria Grazia basta ha avuto il privilegio e la fortuna di incontrare ma ragazzi tu hai un incontro fortuito premesso tu non sapevi assolutamente nulla di Natuzzaevo assolutamente me lo confermi assolutamente sì io sono andata in libreria a comprare un testo che era l'opera omnia di Carol Wetiwa perché sono attrice teatrale e mi interessava la sua produzione poetica e drammaturgica in quell'occasione ero andata con una mia amica e ho visto il testo di Luigi Maria Lombardi Satriani esposto e questa mia amica il dolore e la parola e mi ha impresso molto questo titolo oltretutto io anche come te ho fatto gli studi universitari e conoscevo il professore Satriani per cui mi incuriosiva questa cosa perché questa mia amica mi ha detto ma come non conosci Natuzza dico no ma chi è ma è una grande mistica vivente ho consultato il testo di Natuzza ho visto che all'interno c'era un testo teatrale e ho detto vabbè compriamo entrambi i testi e sono tornata a casa Maria Grazia chi eri? allora parliamo del 2006 una vita un attimo buia possiamo definirla in quel momento avevi un grande dolore buia no dolorosa sì buia no perché la certezza dell'eternità non mi ha mai abbandonata assolutamente però con un grosso dolore avevamo perso mio fratello Andrea di 32 anni con un incidente stradale in maniera repentina lo abbiamo visto dopo tanti giorni dalla morte perché hanno fatto degli accertamenti e i miei genitori anziani vivevano con lui Andrea aveva anche una malattia renale e non era sposato e viveva nello stesso stabile dove io e Michele attualmente viviamo era innamoratissimo della vita era un ragazzo gioioso pieno di vita e era amatissimo dalle nostre figlie da Arianna da Giulietta e i miei genitori insomma oltre 80 anni hanno e me anche ovviamente abbiamo visto Andrea scomparire improvvisamente questa cosa ha segnato in noi ovviamente un dolore grande lancinante che però man mano era sopportato dalla fede noi sentivamo che Andrea era comunque con noi però avevo bisogno in cor mio di dare ai miei genitori prevalentemente ma anche alle bambine una parola in più quando hai capito Maria Grazia che quella parola forse l'avresti potuta avere da un incontro con Natuzza Evo guarda quando lessi il libro del professore restai folgorata perché dico questa donna queste manifestazioni così visibili con l'aldilà con l'eternità con dico che cosa particolare mi ha particolarmente incuriosita ma impressionata più che incuriosita questa cosa contemporaneamente ti dicevo Lucia ho acquistato il libro di Carlo Boetiva leggendo questo testo mi imbatto con un'opera drammaturgica un dramma sulle riflessioni sul matrimonio che si intitolava la bottega la bottega dell'orefice ora mio fratello era orafo e aveva un negozio che si chiamava la bottega dell'orafo i personaggi principali di questo testo erano Teresa e Andrea e mi è perso un segno diciamo chiaro dico io l'avevo comprato contestualmente al testo di Natuzza dico io devo conoscere Natuzza e lei forse che mi può dare quello spessore comunicativo che dà un'ulteriore forza alla certezza che noi non siamo abbandonati che non siamo soli come diceva il professore e che il dolore può essere in qualche modo trasformato in qualcosa di bello voi riesce a convincere Michele no come dire però te lo trascino te lo porti in una vacanza nel senso che gli chiedo di ma insomma sei giornalista possiamo in qualche modo trovare qualche contatto che ci può aiutare affrontata proprio gli lo dici proprio chiaro assolutamente a un marito si può chiedere di aiutare quantomeno ad avere un recapito telefonico qualcuno da contattare lui no e io chiamo la fondazione e mi dicono che Natuzza non può ricevere ma è possibile vederla in una situazione collettiva perché ci sarà la processione Mariana per la Madonna a giugno grazie dici di quell'incontro allora siamo con te questo incontro è stato non dico ostacolato ma non era semplicissimo sono andata alla fondazione con Michele Michele non è entrato perché doveva farmi mangiare le nostre figlie che era già mezzogiorno e mezza l'una quando siamo arrivati entro nella fondazione e incontro no vedo che ci sono altre persone come me che però sembrava avessero più urgenza ovviamente per cui non me la sento di proporre la foto di mio fratello Andrea aspetto mi metto in preghiera alla cappella della fondazione a un certo punto si è vicina Don Pasquale Barone che mi chiede gentilmente di uscire perché stavano chiudendo per l'ora di pranzo magari di tornare dopo io dico appunto che stavo aspettando un attimo il rientro di mio marito che era andato a far mangiare alle ragazze lui però si ferma e mi dice senta ma lei da dove viene e gli spiego che avevamo stavamo in villeggiatura al mare avevo per l'occasione per conoscerla avevo proprio organizzato le vacanze estive in Calabria e a un certo punto come fulmine al cialzerino mi dice ma lei vuole incontrare Natuzza e dico sì la vorrei incontrare dice aspetti un attimo ora è l'ora di pranzo dovrebbe scendere se Natuzza è malata aveva male alle gambe in quel periodo e cioè era già malata molto però aveva anche questi dolori forti in quel periodo e mi dice di aspettare lì un attimo che avrebbe verificato se Natuzza se la sentiva e poi è entrato e ci ha accompagnato a Natuzza che cosa succede in quel momento in quel momento succede che abbiamo sia io che Michele ma anche le bambine la percezione di qualcosa di grande che si stava compiendo io propongo ecco Don Pasquale mi dice di fare poche domande io ero arrivata lì con una serie di persone da sottoporre a Natuzza alcune di queste erano anche figli di alcune mie amiche però Don Pasquale mi ha detto no una, due non possiamo stare molto propongo la foto di mio fratello Natuzza mi guarda e mi dice Andrea sta bene stai in un posto bello prega prega per lui non trascurare la messa ma io mi sento mi sento supportata cioè mi ha dato le parole che io volevo anche da raccontare a mamma e papà da raccontare a mamma e papà io sono tornata con una forza grande e mamma e papà tutt'oggi sono grati di questo incontro e non solo loro perché poi ci sono si sono verificate altre opportunità ma la cosa bella è che poi Michele ha proposto la foto di suo padre e Natuzza ha ha detto che lo conosceva che era tanto che era morto Domenico e che lo e che era morto di un brutto male e anche per Michele insomma sono state parole di grande questo primo incontro se volete ne ha avuti altri nel senso che voi siete rimasti con il vostro cuore nella fondazione voi avete fatto in modo da poter raccontare tra l'altro abbiamo visto delle foto bellissime anche tra Michele con Michele e Natuzza perché evidentemente quella presenza vi ha cambiato la vita ma Maria Grazia tu tra l'altro sei un'attrice sei una donna possiamo dirlo anche abituata alla vita del mondo tu vivi anche il palcoscenico eccetera che cosa ti ha insegnato Natuzza in che cosa ti ha cambiato tu hai detto prima mentre parlavamo tra di noi era un incontro di quelli che ti cambiano la vita come? Allora Natuzza la premessa importante è che di fronte a Natuzza tu tu vedi proprio il candore tu vedi quella semplicità che vedi nei bambini che hanno la semplicità data dal fatto che per loro è la normalità no? quello che ti dicono quello che fanno io con Natuzza diciamo ho imparato l'autenticità della mia arte interpretativa forse io lavoro in teatro da tanti anni però mi ha trasmesso la forza della normalità della semplicità come donna? come donna c'è stata una cosa bellissima quando siamo tornati l'anno successivo a Natuzza ho chiesto essendo lei mamma di cinque figli essendo io piuttosto affaticata stanca del ruolo educativo stanca nel senso non nel senso dell'impegno che riceve ho chiesto a Natuzza dimmi come hai fatto come mamma e lei mi ha dato tre parole che per me e Michele sono state la chiave ma tutt'oggi sono la nostra forza ha detto tre semplici parole ha detto forza pazienza e amore e io queste parole le ho impresse io mi ricordo quando la giornata si fa dura si fa difficile leggo in queste parole questo Vangelo incarnato forza pazienza e amore e su queste vado avanti beh va avanti in una in un in un mondo che non sempre accoglie delle persone che hanno qualcosa di più forse alto dentro il cuore o perlomeno che vivono questo Vangelo anche nel quotidiano che poi la nostra sfida è quella non riempirci la vita di belle parole ma vivere quelle parole forza pazienza e amore questa è l'ABC veramente per qualsiasi condizione si possa si possa trascorrere in quel momento ma ragazzi noi tra un po' ritorneremo anche a te perché tu ci farai un regalo e qua ti siamo grati a priori noi però se volete queste valigie le riprendiamo un attimo le ripartiamo per Paravati e ritorniamo proprio ancora alla testimonianza di Natuzza Evolo tanto ancora da scoprire vi amo a tutti non come vi amo Gesù che Gesù è buono e misericordioso io sono una di voi però amo Gesù e voglio che tutti voi l'amate quello che sta a cuore a Gesù e alla Madonna sta a cuore a me sono contenta di quello che fate fatelo per l'amore della Madonna e puro per le povere gente che si bagnano fuori e noi vogliamo questa di essi prego per voi pregate per me e salvano non ce l'hanno ma insieme Gesù ci vuole a tutti i santi più chiaro di così probabilmente non c'è non c'è altro modo per definire Natuzza questa piccola questo strumento nelle mani di un Dio che chiede a tutti di essere migliori di quanto almeno rischiamo rischiamo di essere ci sono altri incontri che ha fatto Natuzza o meglio altre persone che hanno avuto la fortuna di incontrarla è una presenza frequente nei nostri studi il professor Giuseppe Noia Pino Noia come me abbiamo imparato a chiamare poche volte forse o forse questa è la prima volta in cui parla di una cosa molto personale perché professore se ci diceva Maria Grazia mi ha insegnato anche ad essere una madre migliore una professionista migliore Natuzza l'ha fatta sposare professore lei proprio non si decideva vogliamo raccontare essere così allegri un minimo di leggerezza in più perché professore questa puntata dimostra che la santità è gioia spesso io scherzando con le mie pazienti dico con noia si partorisce con gioia quindi c'è un tema che continua il mio incontro con questa santa donna io la definisco santa donna ma santa madre soprattutto perché mamma Natuzza è il titolo più indicato nasce nel 98 quando il professore Serra ed io fummo invitato un genetista lo diciamo questo per i non attenti ai lavori un grande scienziato internazionale fummo invitati a Vibo a fare un convegno in quell'occasione padre Michele disse adesso vi facciamo conoscere una persona eccezionale professore lei che cosa sapeva di Natuzza ma io sapevo che c'era questa donna che aveva dei doni particolari ma non ero curioso di conoscere la donna dei fenomeni mistici ero curioso di capire come Dio si manifestava nella semplicità e Dio mi ha risposto subito perché la prima cosa che disse padre Serra disse signora la chiamò signora io vorrei sapere da lei farle una domanda io chiesi mi devo allontanare mamma notte dice no rimanite rimanite restate e ci sedemmo tutti e tre dice padre Serra dice senta io ho questo grande problema ci sono dei grandi scienziati persone bravissime di una grande umanità di un'intelligenza eccezionale che però non credono non hanno la fede di queste persone il Signore che farà e lei subito grande scienziato con la donna che non disse beh se queste persone sono vissute secondo la legge di Dio il Signore li salverà una risposta semplicissima per dire che Dio non fa distinzioni ovviamente una coscienza rettamente ispirata e padre Angelo Serra fu colpito dalla semplicità di questo fatto ma il rapporto tra scienza e fede continuò negli incontri con Natuzza Natuzza le mandava le pazienti professore da quel momento in poi dice ora c'è il mio ginecologo tra virgolette di fiducia le mando le pazienti questo è un fatto che mi fa ridere perché a un certo punto quando la incontrai una volta mi disse professore io ci mando le persone io gliele mando le persone perché siete cusci inzioso perché diciamo non voglio fare un elogio di me ma disse una cosa semplice ci mettete un po' di interesse di amore per le persone e una buona parola ci ha dici di sempre una buona parola gliela dite sempre e poi mi risolvete i problemi nell'ottanta per cento io ho detto mamma Natuzza ottanta per cento è un po' esagerato e invece diciamo il trenta per cento no l'ottanta per cento me l'ha detto l'angelo oddio quando ha detto così mi sono stato zitto sono tornato a Roma e ho visto le schede io ci metto chi me le manda mamma Natuzza e ho visto che in effetti le donne che non avevano avuto bambine avevano fatto fecondazione artificiale eccetera poi nel trenta per cento avevano ottenuto il bambino con le sue preghiere con il mio modesto impegno eccetera allora ho detto vedi stavolta l'angelo si è sbagliato però però c'erano altre schede e piglio queste schede mamma Natuzza e c'erano donne che avevano avuto da due a cinque aborti quindi anche quelle un altro trenta per cento avevano avuto bambini dico oddio vuol dire che l'angelo forse c'ha ragione e quel venti per cento chi erano trenta sessanta mancava un venti per cento erano quelle persone mandatemi da lei che non eravamo riusciti diciamo a dare bambini che però avevano scelto la via dell'adozione e quindi i genitori erano diventati comunque ci aveva preso nell'ottanta per cui loro lei diceva a parte l'umiltà mi risolvete cioè come insomma una madre fa come quella madre che c'è il bambino che porta il secchio e dice mo ti faccio portare il secchio il bambino si sente che porta il secchio ma butta più acqua che portarne lui pensa di essere importante ma quello che fa tutto è la mamma e questo veramente dimostra come questa donna viveva la sua santità la sua presenza di Dio nella sua vita attraverso il mistero che è amore e dolore professore a un uomo di scienza noi abbiamo la fortuna poi vi hanno messi anche i vicini a un uomo di scienza come lei che cosa racconta la fede la spiritualità ma anche il sacrificio perché è una parola che abbiamo utilizzato poco ma che va assolutamente riportata a questa figura il sacrificio di Natuzzae vedo io mi sono interessato del fenomeno delle emografie ma la cosa che mi ha colpito di più non è tanto il fatto soprannaturale che quel sangue prende delle forme particolari ben precise ma c'è i significati significato teologico significato anche esistenziale non esiste una vita che può dare senza che ci sia un sacrificio da fare padre Pio diceva la vita senza l'amore non ha sapore ma senza il dolore non ha valore ecco che cosa ci insegna Gesù Gesù ci insegna che si ama veramente attraverso la croce e lei non lo faceva notare questo lo faceva con una semplicità di mamma e anche per me quando le chiesi padre Michele disse io faccio un modello sperimentale di cellule staminali per curare le malattie genetiche staminali adulte diciamo quelle eticamente giuste e le prendo le metto nella pecora per vedere se poi vanno nei tessuti da curare e tu diglielo a mamma Natuzza e dico come faccio a spiegare sto modello a mamma Natuzza lì la mia fede è un pochettino e invece andai e provai con le parole dico vorrei fare questo modello per curare lei ci stette un attimino a pensare qualche minuto si vede che stava ricevendo i telegrammi sempre cosa buona iate avanti iate avanti è una cosa buona andate avanti senta professore ma finalmente perché lei se no mi restava a scapolone quando è questa storia è bellissima lei ci aveva insomma questa donna bellissima accanto ma non si decideva proprio avevamo un cammino particolare io e mia moglie che facevamo da anni e poi questo discennimento diciamo è cambiato avevamo con il nostro padre spirituale già iniziato un cammino di capire se rimanevamo nella posizione di un celibato o di una scelta matrimoniale eravamo dopo la morte del nostro padre spirituale un po' dell'angoscia di tradire una scelta per un'altra scelta e quando lei la conobbe la conobbe anche mia moglie lei ha un certo punto e disse beh sto discennimento è dirato troppo sposatevi se no io muoio e non vi vedo sposate e dove vi siete sposati le malozie bellissime professore sua moglie è uno schianto glielo devo dire complimenti anche per il vestito abbiamo scelto di sposare nella sua realtà e lei ci ha fatto da mamma io mia madre in quel momento stava poco bene quindi non è potuta scendere con me giù a partecipare lei ci ha fatto preparare il letto matrimoniale ci ha curato veramente nei mini in particolare a un certo punto mia moglie diceva io devo trovare adesso un parrucchiere e allora padre mio ha detto un parrucchiere le abbiamo trovato un centro benessere ma una cosa tutti i mini in particolari poi abbiamo visto una 500 alcuni amici dicevano c'è questa macchina questa abbiamo visto ma quella 500 quella è la macchina di mamma Natuzza mia moglie disse no quella lì vorrei e allora ce l'hanno lavata cioè l'amore che abbiamo ricevuto in quell'occasione era un amore che veniva attraverso questa donna direttamente dal signore e noi abbiamo ricevuto anche un mandato mamma Natuzza prima di morire siamo andati a trovarla dopo la morte di mia madre in Sila e ci ha detto professore perché non fate un cenacolo di preghiera per le famiglie al Policlinico Gemelli e io mi sentivo inadeguato però ha detto io ci provo mamma Natuzza sono 4 anni che ci riuniamo una volta al mese una quarantina di persone per pregare con il rosario la messa e la supplica che lei ha fatto alla Madonna quando aveva 9 anni una supplica speciale in cui lei si confrontava con la madre di Dio diceva se non mi fai sta grazia me la devi fare a forza se no io ti scippo la veste ti strappo la veste ti bacio i piedi mi metto a piangere ai tuoi piedi fino a quando non me la farai ecco io ho fatto pure un concerto dinanzi a lei perché io mi diletto di fare canzoni e lei ha voluto che ai giovani io cantassi queste canzoni e alla fine quando ci ha ricevuto nella stanza ha detto bravo professore e io le dissi mamma Natuzza in una canzone ho detto cos'è che resta di questo tempo andato se non il fiume di quello che tu hai dato cos'è che resta di questo nostro andare se non il frutto di aver amato amare e tu ci hai fatto sentire amati grazie professor Lombardi Satriani lei questo fiume l'aveva visto dall'inizio aveva capito che avrebbe generato una piena tale da travolgere e cambiare l'esistenza della gente o a distanza di qualche anno la sorprende la lascia esterrefatto no non mi sorprende non è che voglia presentare di me l'immagine di uno che comprende del profeta comprende tutto dall'inizio quello che però io avevo compreso è che rispetto al dolore dell'esistenza la risposta di Natuzza era l'amore era l'andare incontro e l'essere con il compatire e questo per me è importante perché mostra l'itinerario alla conoscenza passa attraverso il dolore solo chi soffre sa lo dicevano i tragici greci quindi è un itinerario complesso che però Natuzza nella sua grande semplicità comprende è attua e l'ha attua con un cattolicesimo popolare vissuto in profondità che molte volte ha avuto invece dalla gerarchia ecclesiastica giudizi sprezzanti pensiamo a padre gemelle e altro solo adesso con il messaggio enorme di papa francesco noi comprendiamo la carica rivoluzionaria con quella luce nuova e della semplicità è verissimo è verissimo è indispensabile prima di chiudere con la nostra Maria Grazia io ho un secondo proprio una risposta di un secondo ma che cosa stai provando in questo momento a sentir parlare così Pasquale di nonna Natuzza sono contento che il suo messaggio anche dopo la sua morte terrena continui ad arrivare a tutti quindi ecco di amare Gesù di amare la Madonna di sentirseli vicini lo dico soprattutto ai miei coetanei quando avete dei problemi chiedete aiuto vedrete che la vita cambia mai soli Maria Grazia tu hai scelto la chiusura per noi intanto salutiamo anche la nostra Monica Di Loreto che è entrata una chiusura che forse più di mille altre parole racconta anche la nostra gratitudine agli ospiti Pino Noia Luigi Maria Lombardi Satriani Pasquale il nipote di Natuzza Evole appunto Maria Grazia Narducci a te bene è una poesia sulla speranza sulla gioia malgrado la morte e la perdita aspettami ed io tornerò ma aspettami con tutte le tue forze aspettami quando le gialle piogge ti ispirano tristezza aspettami quando infuria la tempesta aspettami quando quando fa caldo quando più non si aspettano gli altri obbliando tutto ciò che accade ieri aspettami quando da luoghi lontani non giungeranno mie lettere aspettami quando ne avranno abbastanza tutti quelli che aspettano con te aspettami ed io tornerò non augurare del bene a tutti coloro che sanno a memoria che è tempo di dimenticare credano pure mio figlio e mia madre che io non sono più gli amici si stanchino di aspettare stretti intorno al fuoco bevano vino amaro in memoria dell'anima mia aspettami e non t'affrettare a bere insieme con loro aspettami ed io tornerò adonta di tutte le morti e colui che ormai non mi aspettava dica che ho avuto fortuna chi non aspettò non può capire come tu mi abbia salvato in mezzo al fuoco con la tua attesa solo noi due conosceremo come io sia sopravvissuta tu hai saputo aspettare semplicemente come nessun altro